bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti finalmente posso dirvi che si parla di winterfest o winter royale chiamatelo un pochettino come preferite ma le prime notizie sono arrivate e sono davvero molto interessanti ieri abbiamo visto che dal 17 no dal 12 non mi ricordo bene dicembre ci saranno ogni giorno dei giochi gratuiti nell'epic game store ed è solo la prima parte dei regali e della festività che vogliono condividere insieme a noi parliamo anche oggi di altre news voglio farvi vedere dei piccoli leaks dei piccoli easter egg che sono davvero super interessanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno messo e che stanno mettendo un bel pollicione in su a questo video grazie ragazzi per portarlo nei consigliati e a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta proprio del premio che tutti otterremo se abbiamo guardato ieri sera i game awards abbiamo la copertura che si chiama nebulatic che ovviamente è una copertura animata e che ci dice the nebulatic twitch drop for watching the game awards will be distributed to eligible player beginning on monday 12 14 e will be completed by on 9 pm 12 15 quindi ragazzi non abbiate paura se ancora non è stata ricevuta la copertura la potremmo trovare dal il 14 o il 15 dicembre volevo ovviamente farvela vedere in un piccolo spezzone come vedete è davvero molto molto carina la copertura è animata quasi quasi richiama un pochettino qualcosa in stile galaxy ed è davvero un bel regalo assolutamente gradito visto che la roba gratis non si rifiuta mai un bellissimo metodo per ricordarvi dei game awards grazie comunque fortnite per avercela regalata e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle novità per quanto riguarda quello che potrebbe succedere durante il winterfest o il winter royale new environmental ice cold per dis winter quindi un nuovo tipo di ghiaccio potrebbe succedere un nuovo tipo di ghiaccio apparirà in questo inverno e it and electricity have been in the work since fire was added and both were updating 1500 praticamente ragazzi insieme al fuoco noi sappiamo che esiste il fuoco in fortnite sia per quanto riguarda le armi che lo producono che poi è stato anche portato ad esempio come danno ai giocatori sia nel tempo che ad esempio prendendolo per dire nei falò quindi una roba che interagisce direttamente con i giocatori insieme al fuoco è stato anche proposto il ghiaccio e l'elettricità come elementi che possano interagire nel game di questi tre elementi solamente il fuoco ovviamente è stato sviluppato e portato avanti e io immagino che ci voglia veramente un sacco di tempo per poter produrre un elemento che rientri bene in game in un gioco così delicato tra virgolette per quanto riguarda il bilanciamento del degli oggetti e delle cose e hanno detto che in questo in questo winter potrebbe arrivare il ghiaccio ice will be melted my fire and will potentially turn water into ice praticamente si potrebbe si potrà forse utilizzare in qualche modo il ghiaccio per contrastare ovviamente il fuoco quindi potrebbe anche arrivare qualche arma dedicata allo sparo del ghiaccio mi viene in mente ad esempio lo spara palle di neve che già è presente da sempre su fortnite è quella specie di lancia granate mi manca tantissimo il lancia granate una delle mie armi preferite era divertentissimo da utilizzare e appunto potrebbe essere sviluppato in modo che cominci ad entrare nella meccanica di gioco tra l'altro si parlerà anche di neve ovviamente in questo winter fest in questo winter royale e potremmo magari vedere porzioni della mappa innevate queste ovviamente sono delle immagini di tanti anni fa dove si vede là in fondo una tilted e una una distesa di neve che appunto ricopriva tutta la mappa ricordo un 25 dicembre del 2018 se non vado errato dove ci svegliamo iniziamo a giocare a fortnite e la mattina era tutto completamente innevato tipo così ragazzi quindi non è non sarà probabilmente una cosa che andrà avanti ma ci auguriamo so che molti di voi vorrebbero la neve su fortnite piacerebbe anche a me per un breve periodo e quindi perché no magari epic games con la pace di settimana prossima potrà regalarci questa novità e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questa immagine la conoscete molto bene sono già un paio di giorni che vi parlo dello snow mando e perché ve lo faccio vedere in questo modo perché ragazzi è stato trovato una specie di trailer del winter fest open your holidays and feel it with the legendary supply drop questo ragazzi è una schermo un video preso ovviamente dagli dei file di fortnite lo fermiamo qua perché c'è un'immagine davvero incredibile una roba brevissima probabilmente è il trailer del winter fest la prima cosa che ci viene all'occhio è lo snow mando quindi questa skin il pupazzo di neve che magari potrebbe anche essere un regalo di questo winter fest perché no l'ultimo giorno il 24 dicembre ci regalano una skin sarebbe veramente meraviglioso e come vedete nell'immagine non è finita la roba da dirvi perché lo snow mando imbraccia proprio lo spara palle di neve è esattamente lui e quindi io sono molto fiducioso in un suo ritorno per il periodo natalizio ma c'è un'altra curiosità incredibile come state vedendo c'è la skin del babbo natale che è già presente sergente bruma mi sembra si chiami su fortnite e sta arrivando con un aeroplano ora io non so se l'abbiamo voluto ma l'abbiano voluto fare solo per festeggiare il l'anniversario dell'arrivo degli aeroplani arrivarono in season 7 nel 2018 dove eravamo proprio in questo periodo natalizio ma sappiamo e ve lo ricordo che hanno aggiornato all'inizio di questa season tutte le modalità della dell'air royal con anche i suoni l'air royal per chi non l'avesse mai provato è stata una ltm tra le più belle dove si partiva direttamente a bordo di un aeroplano e si doveva combattere sparando appunto contro gli altri giocatori vinceva il l'ultimo sopravvissuto probabilmente magari potrebbe anche tornare e come chiusura dell'immagine una nuova skin perché questo è un bastoncino di zucchero con un piccone che in realtà già esiste su fortnite e che potrebbe essere una nuova skin dedicata al natale insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like aiutatemi a portare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao